Ciao a tutti, in questi giorni in commissione stiamo lottando contro la privatizzazione di Enav. Enav è un'azienda strategica per il nostro paese, si occupa della sicurezza dei voli aerei. Il governo adesso ne vuole vendere il 49% per andare a diminuire il debito pubblico, anche se questa vendita però inciderebbe davvero minimamente su questo debito. Tra l'altro l'azienda è inutile, nel 2012 ha guadagnato 23 milioni di euro e avrebbe potuto fare ancora meglio se non ci fossero stati due fallimenti di vettori aerei. Non sappiamo tra l'altro come verrà venduta e a chi verrà venduta perché non sono previste norme contro il conflitto di interessi. In commissione l'altro giorno non si è neanche presentato il relatore di maggioranza e questo ci fa sospettare che stiano cercando la maggioranza giusta per poterla vendere a qualche loro amico. Noi faremo di tutto per evitare questa privatizzazione, passate parola.